Lady Gossip è pronta per darci un contenuto esclusivo, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella. Oriana Marzoli, la regina incontrastata dei colpi di scena televisivi, ha recentemente svelato gli intricati dettagli della sua relazione con Daniele Dal Moro, un percorso che oscilla tra momenti di passione ardente e incursioni nelle tempeste dell'amore. La coppia, famosa per le sue altalenanti vicende sentimentali, sembra navigare con destrezza tra litigi scroscianti e dolci riconciliazioni, confermando che, quando si tratta di Oriana e Daniele, il ritorno è sempre dietro l'angolo. La nota geffina, protagonista indiscussa della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è confidata con Cusano Italia TV, rivelando che la sua storia d'amore con Dal Moro è una scelta ponderata, ormai tutta l'Italia l'ha capito così come le mie amiche, quando ci lasciamo, poi torniamo insieme. Ammette candidamente che, nonostante i caratteri forti di entrambi, quando le cose vanno bene, vanno troppo bene ed è tutto pervaso da una passione travolgente. Una scelta, sottolinea, che appartiene a loro due, indipendentemente dal gradimento del pubblico. La provocatoria Marzoli, non scontenta di alimentare il gossip, ha anche gettato l'amo su un'ipotetica partecipazione a Temptation Island Winter. Nonostante il programma sia stato annullato per questa stagione televisiva, Oriana non esclude l'idea, suggerendo cocchie esplosive per scuotere gli animi degli spettatori. Ma non è tutto, la vita di Oriana Marzoli è un turbinio di emozioni e incontri inaspettati. Recentemente, ha trascorso del tempo con Antonella Fiordelisi, sua ex compagna di avventure al grande fratello Vip, con la quale aveva avuto litigi memorabili. Tuttavia, le tensioni sembrano essersi placate, come Oriana stessa rivela, sono contenta di aver fatto pace, non è stato nulla di pensato. Ho avuto l'opportunità di parlarle. Ci siamo incontrate per caso, abbiamo conversato ad un tavolo e alla fine ci siamo dette che alcune volte siamo state bene e che il reality ormai è finito. Preferisco tornare amica con persone che sono state vere con me, piuttosto che avere delle amiche finte. Intrighi, colpi di scena, relazioni tumultuose e riconciliazioni sorprendenti, la vita amorosa di Oriana Marzoli è un vero e proprio spettacolo da non perdere. Il mondo di Lady Gossip è in fibrillazione, in attesa di nuovi capitoli nella saga romantica di questa affascinante celebrità televisiva. Stay tuned per ulteriori colpi di fulmine e drammi che rendono indimenticabile la sua avventura mediatica.